Siamo alla chiesa di San Giorgio in Napoli, esattamente a Pianura, la piccola Bethlehem della spiritualità. Ecco, in un clima di Natale, siamo qui per far partecipare a distanza in diretta streaming mondiale tutti i telespettatori per la festa di Natale. Don Giuseppe, quindi ho detto che siamo nella Bethlehem della spiritualità, qui ovviamente Don Giustino ha incominciato a creare la famiglia dei vocazionisti ed era una cosa molto bella iniziare proprio qui per il Natale questa trasmissione. Vogliamo dire ai nostri spettatori come si articoleranno questi appuntamenti? Sì, ci sarà il pranzo per i poveri e per tutte le persone che la nostra parrocchia assiste materialmente e spiritualmente in tutti i modi possibili, in tutti i modi che noi possiamo. E poi le attività con i bambini e il catechismo dove loro si incontrano per celebrare insieme ai loro genitori il Natale cristiano, quindi con canti, con una recita e poi la benedizione dei bambini. E poi la Santa Messa dove vivranno nella loro genuinità questa festa meravigliosa che purtroppo si sta un po' perdendo. Le scuole non insegnano più a vivere il Natale cristiano, anzi alcune scuole lo stanno proprio togliendo come festività cristiana, facendola ridurre a una mera occasione di feria, più che altro. Don Giuseppe, vediamo tanti volontari ovviamente per sostenere le cose che lei sosteneva e diceva poc'anzi. Sì, i nostri volontari ogni anno, insomma sono più di vent'anni che preparano questo pranzo per le persone che noi assistiamo come parrocchia. Oggi abbiamo preparato circa 150 posti e per l'ora di pranzo verranno occupati tutti. Il pranzo, come vi dicevo, è stato offerto dai nostri parrocchiani. Ognuno ha voluto cucinare qualche cosa per le persone che sono più in difficoltà e sono meno ambienti. Hanno portato di tutto, dall'antipasto al dolce, al vino, bibite, acqua e tutto, frutta, tutto quello che potevano portare, tutto quello che volevano portare e molto di più. Perché i pianuresi, come vi dicevano, non mancano di generosità. Una vera gara di solidarietà. Abbiamo visto tanti fedeli impegnarsi. Sì, assolutamente sì. E questo è lo spirito che Don Giustino ha lasciato nel cuore di ogni pianurese. L'amore. Ecco, l'amore, vediamo con tanto amore. Voi vi impegnate ovviamente per dare sempre ospitalità ai più bisognosi. Sì, è vero. Perché noi siamo invitati dalla parola di Dio, dal Vangelo di Matteo che dice ciò che fai ai più piccoli, lo hai fatto a me. Quindi noi giornalmente facciamo questo. Andiamo a incontri bisognosi, carcerati, ammalati. Qui vediamo ovviamente le persone che si sono impegnate per stare a fianco a questi bisognosi, ma soprattutto ognuno di loro ha dato la sua disponibilità e anche oltre. Noi facciamo quello che possiamo di vero cuore per questo Santo Natale, per far alletare queste persone che sono meno fortunati di noi. Dicevamo questa gara di solidarietà, quindi Don Giuseppe riesce a coinvolgere tutti i fedeli e non solo. Lei si è prodigato ovviamente per dimostrare la vera fede. Sì, è vero. Non solo io. Tante persone hanno risposto a questo invito e vedo tanta roba qua che veramente non poteva portarlo una sola persona, ma tante persone. Dunque, siamo proprio fatti così. Quando dobbiamo fare una cosa la facciamo con il cuore. È il popolo napoletano che è così. Dunque, io lo devo dire e mi vengono i primi di solo a pensarlo. Sì, noi abbiamo accettato veramente con tanto amore l'invito di Don Giuseppe per dare anche noi la nostra, diciamo, siamo stati disponibili in tutto e per tutto e dando il contributo, come si diceva prima, da parte di mia moglie che ha cucinato questa bella teglia di pasta al forno che loro gusteranno e ci fa piacere sempre di partecipare a questi eventi. Siamo alla piccola Bethlehem di Pianura, quindi la chiesa di San Giorgio Martire. Qui con noi son Teresa Soria. Son Teresa, ecco, lei ci può spiegare esattamente la scenografia che vediamo dietro alle nostre spalle di questi splendidi bambini. Sì, siamo qui per prepararci tutti insieme al Natale con i bambini dei tre anni di catechismo, catechismo per l'iniziazione cristiana, quindi tutti i bimbi che si preparano alla prima comunione insieme naturalmente alle loro famiglie. Quindi ci sono particolarmente le mamme dato l'orario. È una manifestazione di gioia, di festa e infatti si canterà, si ballerà, però è anche e soprattutto una manifestazione religiosa. Quindi rivivremo la magia del primo Natale con una piccola rappresentazione di quello che accadde a Bethlehem. C'è il coro che ci aiuta nel canto, il coro della parrocchia San Giorgio, che è formato da una quarantina di bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, guidato da Agostino e da me. Poi c'è un gruppo che sta facendo un corso di teatro, guidato da Emanuele che è un attore ed è un ragazzo che ha deciso di seguire il Signore in questo servizio. Si incontrano ogni sabato e stanno imparando a recitare, naturalmente sempre, come diceva Don Giustino, mettendo a servizio del Signore quelli che sono i propri doni. E poi ci sono anche tutti gli altri bambini che porteranno dei doni a Gesù, come se fossero dei piccoli pastorelli, questo per cercare di far partecipare tutti, perché il nostro impegno è sempre quello di rendere protagonisti tutti i bambini, non soltanto quelli che fanno parte del coro o del gruppo di teatro. Infatti abbiamo coinvolto anche diversi di loro per una mini scuola di ballo e quindi ci offriranno dei balletti, sempre cercando di fare cose che a loro piacciono per coinvolgerli il più possibile e fargli seguire il Signore, che è la cosa principale. Agostino Russo, vediamo una scenografia bellissima. La tua passione è quella ovviamente di far crescere nella fede questi bambini. Sì, in effetti è un dono che il Signore mi ha dato, quello di trasmettere ai bambini la gioia del canto. È un dono che il Signore mi ha fatto tramite un grande sacerdote vocazionista che non c'è più, che ora è nella gioia con gli angeli, padre Francesco Belluzzo, il quale un giorno di tanti e tanti anni fa disse, si tolse la sua chitarra, la diede a me e disse «Da oggi tu suoni e io predico». E quella sua gioia che trasmetteva, che sapeva trasmettere, io ho capito davvero che il Signore da me voleva affidarmi tanti bambini. Questi qua che vediamo adesso sono ragazzi che hanno fatto, le più grandi celle hanno fatto il corso di comunione, di catechismo di prima comunione, il corso di cresima e continuano a venire ed è una gioia questa vederle ancora in chiesa insieme alle loro famiglie. Don Giuseppe, noi dobbiamo sottolineare una cosa, che questo arricchisce il territorio di pianura e quindi fa sì che si continua ovviamente nella missione del Beato Giustino. Sicuramente, la vita religiosa aiuta sicuramente, sensibilizza, come l'abbiamo visto nel pranzo per i poveri, la vita religiosa, l'avvicinanza verso Gesù rende il cuore molto più tenero, molto più sensibile a quelle che possono essere necessità verso il fratello. Don Giuseppe, vediamo la stella, ecco, che è luce, ma soprattutto speranza. Sì, perché indica il luogo dove è la fonte della speranza. La stella accompagna i magi verso la grotta di Betlemme e lì i re magi dopo un lungo cammino e ritrovano la realizzazione della loro speranza, aver trovato colui che cercavano, il Messia. Vediamo i magi, ecco, con i doni. Sì, i miaggi portano l'oro, l'incenso e la mirra che indicano la regalità di Cristo, la divinità di Cristo e il sacrificio nella mirra, nell'offerta della sua vita per la nostra redenzione, per la nostra salvezza. I bambini, anche loro, oltre alle loro famiglie a aver partecipato al pranzo di Natale per i poveri, continuano a portare i doni per i bambini più bisognosi nel nostro quartiere. E quindi, anche ancora con questi doni, noi aiuteremo le famiglie della nostra pianura. Ecco la generosità di chi incomincia a frequentare non tanto la Chiesa, ma Cristo. Don Giuseppe, ecco la vera solidarietà. Sì, ecco il vero amore verso i poveri, verso coloro che sono più bisognosi. Noi cristiani la chiamiamo carità, perché è il nome di Dio, caritas, vuol dire amore. E Dio è amore, noi siamo un pezzo dell'amore di Dio. E questi sono i primi frutti di questo seme piantato e questo seme che cresce. Le nostre catechiste, coordinate da Sir Teresa, una sua vocazionista, si lasciano veramente coinvolgere in questa esperienza del catechismo e nelle sue attività. Lasciano le loro famiglie, lasciano le loro necessità. Molte volte, qualche volta, anche se si ammalano, vengono lo stesso a catechismo. Lasciano tutto per venire e per organizzare insieme a noi queste bellissime manifestazioni. Io mi sento un prete fortunato, un prete veramente graziato ad avere tante persone che mi collaborano in quest'opera. Forse posso dire che sono io che collaboro con loro, perché poi la maggior parte del lavoro lo fanno loro. Don Giuseppe, diciamo lo spirito del Beato Giustino. Lo spirito del Don Giustino, sì, coinvolgere le più persone possibili per portare tutta la santificazione universale. Don Giuseppe, come possiamo concludere questa bellissima trasmissione con questa splendida scenografia sull'altare? Ecco questi bambini gioiosi. La gioia ci predispone a vivere nella gioia, nella serenità, questo momento meraviglioso del ricordo della nascita di Cristo in mezzo a noi. E Cristo lo si può accogliere solo nella gioia, non nella preoccupazione. Se abbiamo delle preoccupazioni, perché fanno parte della vita, questo momento della gioia ci fanno ricordare che tutto possiamo mettere nelle mani di questo bambino, che come vediamo nell'iconografia ha le braccia aperte, ecco nel segno di accoglienza. Vuole prendere su di sé tutta la nostra tristezza e riversare su di noi tutta la sua gioia. Auguri a tutti. Buon Natale! Grazie!